Marconi riuscì a collegare la scoperta delle onde elettromagnetiche con apparecchiature come il generatore di righi e il rivelatore di Branly & Lodge. A Pontecchio nel 1895 riuscì a trasmettere un segnale a un chilometro e mezzo di distanza. La sua invenzione, rifiutata dal governo italiano, fu invece poi brevettata come telegrafo senza fili in Inghilterra. Il 12 dicembre 1901 ebbe luogo la prima trasmissione radio attraverso l'Atlantico.